È trascorso un anno esatto da quando nel Cilento si accertò il primo caso di positività al coronavirus. Una giovane donna di nazionalità ucraina originaria di Montano Antilia fu ricoverata in un primo momento presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Furono vissuti momenti di paura, tensione e apprezzione per una situazione molto delicata in quanto un anno fa si era ancora alle prime armi nel trattare pazienti affetti da covid-19. La giovane donna fu poi trasferita all'ospedale Cotugno di Napoli e anche qui la situazione destò molto scalpore per quanti attraverso i filmati pubblicati sui social videro il trasporto nell'ambulanza di biocontenimento. Da quel momento in pochi giorni si cominciarono a registrare contagi anche in altre località del Cilento. Ad Agropoli il primo contagio da covid fu registrato su di una professoressa del liceo Gatto. Anche in questo caso fu necessario il trasporto all'ospedale Cotugno di Napoli. Il secondo toccò ad un estetista che aveva avuto contatti con la docente, poi al caro Alfonso Migliorino che purtroppo non è riuscito a vincere la sua battaglia. E così tanti altri cittadini che sono stati costretti ad isolarsi dai propri affetti perché contagiati dal covid-19. Molti sono riusciti a guarire, altri no. Tanti portano ancora le ferite di quei giorni, delle parole dette, delle azioni compiute da tanti. Momenti davvero drammatici, vissuti con bollettini regionali e nazionali allarmanti. Da lì a qualche giorno si decise per un lockdown totale. La nostra emittente televisiva, il 28 febbraio 2020, decise di anticipare i tempi e di chiudere le sue porte al mondo esterno e ai suoi collaboratori, che continuarono però a lavorare da casa e smart working. Cominciò per Cilento Channel, prima tv cilentana a realizzare dirette televisive di informazione nel periodo covid, un impegno costante e faticoso per fornire ai cittadini informazioni precise e dettagliate sui comportamenti da seguire, le ordinanze da rispettare, che si susseguivano velocemente. Le dirette erano quotidiane, con collegamenti ai sindaci del territorio, istituzioni regionali e nazionali, medici e associazioni. Un lavoro di squadra incessante, svolto a servizio dei telespettatori che vivevano momenti drammatici e di sconforto per una situazione che si presentava alquanto terribile. Pochi giorni dopo, dalla nostra chiusura, il governo nazionale annunciò il lockdown. Chiusi tutti i negozi, fatta eccezione dei generi di prima necessità e le farmacie. La vita di ogni cittadino fu congelata, cancellata, annientata da un virus invisibile. Ad Agropoli si poteva uscire solo due volte a settimana per rifornirsi dei beni di prima necessità e tassativamente con autocertificazione. Le strade affollate della bella cittadina agropolese in pochi giorni diventarono strade fantasma. Le persone erano spaventate, andavano in giro con il viso coperto da pezzi di stoffa e mascherine per cercare di salvaguardare la propria salute. Nei loro occhi si leggeva la paura e l'incertezza del momento. Tante cose sono cambiate in questo anno, i cittadini sono diventati più consapevoli, ma la consapevolezza non è bastata per sconfiggere il virus, anzi, a volte ha incrementato il contagio. Oggi, primo marzo, le scuole sono chiuse, la campagna è in zona arancione. Nonostante ciò, un barlume di speranza in fondo al tunnel sembra vedersi, ma bisogna velocizzare i tempi e vaccinare l'intera popolazione. Forse in questo modo riusciremo a riconoscerci integralmente e dire addio ad una benda che da oltre un anno soffoca le nostre emozioni e i nostri sorrisi.